Una piacevole funzione dei TV Smart Viera è Watch&Skype. Dal nome si comprende che possiamo guardare un programma TV e contemporaneamente effettuare o ricevere una chiamata o videochiamata Skype. Per esempio, mentre sto guardando una partita, ricevo una videochiamata da un amico che a sua volta sta guardando la partita a casa sua. Accetto la connessione, ovviamente devo avere un profilo Skype attivo. Insieme guardiamo la partita e condividiamo le stesse emozioni pur essendo distanti. Terminata la chiamata, continuo a guardare la TV a schermo pieno. Grazie a tutti!